E siamo su TheSuffering ragazzi, provano dei tre Ciao a tutti e oggi ben ritrovati su TheSuffering con un nuovo episodio Ora andremo avanti, sto dio sembra l'inferno Che cazzo ma è veramente Il roveto, il roveto di coso lì di Mosè Allora Questi qua Mi uccidono, oddio Dao crepa Si è ancora morto Aia, ma dove cazzo, oddio Si è enorme, muori Oh cazzo Xombio, Xombio Non so pronunciare la X E la madonna, e la miseria madonna Ok, non è iniziato bene Allora Gronato a cieconte Boh, ho totallonato i proiettili Che figo, come cazzo muore, figo Vabbè che l'aveva già fatto sta animazione Ma insomma ci sono mostri Come fanno ad essere azzecati Ah beh, già che la luce del sole li fa male Quindi Oddio Che visione ha avuto Sangue, sangue, sangue Un quadran qui Oddio Ah, lì mi sa che uno di quei Ah no Che che sborra in giro Oh madonna Oh proprio all'ultimo riesco a Ah già che il pompa è il quattro No Madonna come se Oh madonna Ok Pompa Pam Pam Quanto odore il pompa Come cazzo l'ho ricaricata figo Sembra che si tira una sega Eh Troppo figo Ok Ce la fai arrivare là Sei grandissimo Non mi deludi mai Tork Tork Oh madonna Altre visioni Ciao bimbo Che cazzo hai combinato nella tua vita Tork Che si ne fai Qua letti Cazzo si fanno i letti qua Boh Ah forse perché qua è crullato giù Ah ah Stiamo per la scena Oddio Ah no siamo ancora nella Stazione di pulizia Purtroppo per fortuna Purtroppo magari perché Cominza a scassare i maroni Sto Allora non posso andare Sariamo sulla scala Non è che per sbaglio Ah no 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 Impossibile Letti Qua di fuori Oh che cazzo Qual era la sua moglie Oh madonna Oh madonna Oh madonna Oh madonna Allora Probabilmente dovrò Ah no se mi butto giù Crepo E' vero che Tork C'ha le gambine Vaffanculo No l'ho tornato su Merda E dai scavalca Ora mette Se mi ricordo le Due non fa un cacchio Quattro Cinque Il pompa Perfetto E io là come Minca ci entro Beh Beh Allora Femmoci un giro Ahà Non l'avevo visto questo Ecco perché c'erano i letti qua Prevedibile Che cazzo si fa quello lì Nel Contro soffitto Oh madonna Ah siamo di fuori Sì Appunto Scarabocchiato Vabbè Non ho voglia di scartare Né appunti Perché tanto Non sono tradotti La pazza di traduzione È abbastanza schifosina Allora Oddio E là Ciao Ok Ci siamo Ah ragazzi Sto let's play Lo fa anche Luke No Però Il gioco di Luke Non è questo Cioè È più Sembrerebbe Cioè Una versione Non la conoscevo Con la versione di The Suffering Ma probabilmente è un sequel Un sequel che è un remake Cioè è un sequel È un gioco L'altro gioco Era stato comunque Della Midway Che è un remake Però non è questo Per cui Non è un'altra versione di The Suffering lol tranquillo allora mi sistemo il microfono e ci siamo ci siamo questo? posso usarlo? no non posso swerve ah saliamo la scala dunque il tasto azione è questo ok ci siamo qui smimamenti ma tanto siamo abituati oh madonna sono umano eh il coglione va buon munizioni per il mitra ma tipo ho finito le armi? volevo anche altre armi sono solo 4? no non penso ok non posso passare da qua entriamo ah ok rio è questo di un signore allora non è un monstero non è un signore non è un signore non è un signore mi uccidere che un rilassamento mi sono andato molto lungo guarda potrei essere un CO ma credi Mi sento sempre che avevo più in common con gli inmate Quelli che hanno qui a Abbott E' svegliato se tu guardi il suo E' svegliato E' svegliato Ora, l'unica idea che ho ho è che abbiamo una chiamata per la scuola Alcune deve essere potente aiutare Come va, abbiamo bisogno di andare al bambino radio Prendi la chiamata da lì Ti guardi il suo svegliato? Vieni Se non fai il rincoglionito non mi scassi i marroni Non ti metti davanti ai miei proiettili, si Però vieni Tanto di solito faccio sempre il bonazzo io nei giochi Per cui non ti ammazzo Oh madonna, questo mi sa che non mi aiuta Ah no, molto semplicemente Ah che figo Che figata ragazzi Posso usare la luce per fottere quegli stronzi Oh ma che hai da urlare coglione Allarmista E tu saresti un poliziotto? Era più figo il tizio Over right there, here we go Ragni Oddio, ah no, sono proprio ragni Ahia Qui posso girarlo in qualche modo Tu Ah beh, c'era C'è Cos'è che l'hanno ucciso? E' una scala l'hanno ucciso Porca miseria Torche Madonna Ste piccole cose Porca miseria Oh no, dovrei cominciare da qua Che palle Adesso facciamo una bella roba C'è apposta, no? Uno Me raccogli Ecco L'ho ucciso Vaffanculo ragazzi Vediamo dopo Ok, direi che Più o meno ci siamo Ecco qua Oh beh E sono sceso qui per un pene Aspetta, forse se faccio saltare in aria tutto Non so se qualcosa succede, eh L'ombra bellissima, la di... Allora Ok, ora si ragiona Che palle Che palle Non ce la fa più neanche torque Ah, qua texture non caricate Immagino Ma Noi ce ne freghiamo Siamo uomini di mondo No, io ho detto 5 Oh merda In questi casi Oh, sono in 3 Perfetto Troppo figo Accidenti non caricare la texture Le va la Le va la Troviamo normale Perchè se no Non mi posso nemmeno curare Che figo Che figo Si è morto Aspetta Sbaglio Devo buttarci dietro la Che cazzo sta sparando? Eh, mi sa che torno non vanno... Continuano a sponare finchè io non li... Boh, vediamo un po' come funza Tanto più o meno si tiene a testa Sted Non so neanche tanto forte E' la miseria Non fare il rizzo eh Dovrebbero essere finiti dopo questo Eh madonna, perchè vai lì? Mmmh Che rabbia Oh... Andare a 6 a pezzi, vecchio Che figlio Direi che siamo a posta Ci sono gli stinti qua Vediamo di farli fuori E' la miseria Ok Cammino sul nulla Oh, ma stai tranquillo eh Ti penso io Eh, vuoi scendere vecchio mio? Qua si passa? No eh? Ora vediamo dove posso andare Ci sono i proiettori Qua non penso si vada nessuna Eh... Niente Niente Proviamo a tornare su Tanto Forse si è liberato il passaggio Vado a capire Ciao vecchio mio Tutto ok? No Ora forse Bisognerà far così Buh Geronimo Cosa 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.